E buongiorno a tutti, oggi vi parlerò di un disco che è stato estremamente importante per un'epoca, un disco che ha cambiato le sorti della musica, come molti dei dischi di cui vi parlo in queste videopillole ispirate al libro Mille Dischi per un Secolo, e che hanno anche dato vita poi al libro stesso. Questo disco è un disco del 1964, che è uscito per Blue Note, e nello specifico parliamo di Out to Lunch di Eric Dolphy, questo è un discone, ragazzi, è un discone super, come già dalla copertina, lo vediamo con questo, siamo fuori a pranzo, ma siamo veramente fuori con questo orologio che segna più ore contemporaneamente. Nella formazione l'incredibile Tony Williams, giovanissimo, appena entrato nel quintetto di Mice Davis, da poco, e poi Freddie Hubbard e Bobby Hutcherson al vibrafono. Eric Dolphy qui dà il meglio di sé come compositore, come organizzatore sonoro, sia che sia al flauto, sia che sia al cranetto basso, che ha sax contro alto, riesce sempre a stupirci quando le trovate, con il suo stile angolare, pieno di svolte improvvise. Effettivamente, come vi dicevo, stabilirà un nuovo modo di fare musica all'interno dell'avanguardia jazzistica, e non solo di quegli anni, tant'è che oggi molte di queste anche avanguardie, pseudo-avanguardie new yorkesi, e soprattutto, ahimè, gli emuli europei, si rifanno proprio a questi modelli, con queste composizioni tutte inafferrabili per certi versi. E poi, molti tempi dispari, che era una cosa che, per esempio, nel jazz si usava pochissimo, sì, lo facevano dei bravi, ma in una maniera completamente diversa. Qui, per esempio, non so, prendetevi una composizione come quella dedicata a Theronius Monk, High Hat and Bird, Cappello e Barba, che quindi richiama l'estetica di Theronius Monk, e insomma, capirete di che cosa stiamo parlando. Una cosa che mi ha sempre incuriosito è, chissà cosa aveva in testa Eric Dolphy quando decise di dedicare uno dei suoi pezzi al flautista italiano Gazzelloni. Eh sì, perché a Severino è proprio dedicato uno dei pezzi che si chiama proprio Gazzelloni. Benissimo. Vi consiglio di ascoltare questo disco, registrato il 25 febbraio del 1964, uscito per Blue Note, How to Launch. Siamo fuori, eh? Ma molto fuori. Ciao a tutti. Condividete i nostri video. Vi ricordo, canale YouTube, Facebook, tutto il resto. Riempiamo il mondo di suoni mai sentiti. Ciao a tutti.